Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Blue. Io sono sempre Glacial Sphere ed oggi affronteremo la Via Vittoria di Pokémon Blue. Esattamente la primissima Via Vittoria che porterà la Lega Pokémon, come ben sapete. La nostra squadra su Pokémon Blue è questa, Joltor, Pigeo, Talakazam, Blastoise, Clefable e attualmente un posto vacante che abbiamo scelto a questo punto di venerci vacante perché non so decidermi chi mettere in squadra. Quindi arriveremo alla Lega con 5 Pokémon su 6. E' andata così in questo gameplay, let's play, walkthrough, chiamatelo come volete. Ma detto ciò direi di addentrarci senza ulteriori indugi nella Via Vittoria che a quanto pare che sembra un edificio, non si sa bene per quale motivo. Vediamo che Pokémon possiamo incontrare un Graveler che non abbiamo ancora tra l'altro e noi abbiamo assomato i Joltor, non proprio una scelta felice. Allora facciamo così, strumenti, allora è un bel repellente max e voilà. Ed ora siamo belli felici tutti, vero? Ho bisogno di forza per muovere il masso, sì. Cari miei sviluppatori che non avete implementato un'interazione con i massi. Grazie. Perfetto. Ed ora si va. Mentre sposto questi sassi, dato che ci metterò un po' a non vedere fare tutta l'animazione in questo modo, vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare, facciatemi sapere cosa ne pensate voi di questa prima Via Vittoria della Lega di Pokémon Blue, dato che ci stiamo avvicinando. E sappiate che tra l'episodio della Via Vittoria e l'episodio della Lega ho intenzione di andare a recuperare i tre uccelli leggendari che non abbiamo preso. Quindi, assolutamente, scrivetemi magari nei commenti chi sperate di vedere per primo. Però non vi mentirò, gli episodi li registrerò prima che voi vediate questo episodio, saranno già registrati quando voi starete vedendo questo episodio. Quindi avrò già scelto un ordine, però scrivetemi comunque nei commenti chi sperate di vedere per prima. Eccoci qui, salve. Mi chiedo se sei all'altezza di lottare con me. Prima fanta allenatrice di questa Via Vittoria. Guarda lì che ci mostra il culetto. Siete contenti? Persian. Bello lo spreco di Persian, tra l'altro. Molto più figo di quello di Rossofoca Verde Foglia, eh. Molto. Andiamo di Fulmini, vediamo quanto danno gli facciamo. Portocolpo, buono. Oh, i nostri Pokémon devono salire di livello, eh. Ninetales. Magari sì, cambiamo Pokémon contro Ninetales. Anzi no, lasciamo, lasciamo Joltan. Vediamo se con un bel Fulmine riusciamo a shottare anche lui, dubito sinceramente. Però vediamo. Ah, brutto colpo e non è morto. Ah, però non lo so paralizzato. Per favore, rimane paralizzato. Usa i perpozione. Così, preventivamente l'ha usata. Non si sa bene per quale motivo. Però, preventivamente, ha usato la pozione. L'hiperpozione. Perché, come vedete, il Fulmine non fa molto danno a Ninetales, ma anche perché ha delle statistiche speciali. Comunque buone. Quindi, ci mette... Fa molto meno danno. Ok, livello 47 per il nostro Joltan. Ho perso tutto. Tutto ho perso. Ma stai calma, che era la fantarinatrice. Allora, io gli strumenti invisibili della Via Vittoria sinceramente non ricordo dove stanno. E qui mi ricordo che abbiamo due strumenti. Una caramella rara e un dragartigli, un po' come un rosso fuoco. Non mi ricordo quale è cosa. Quindi prendiamo prima questo strumento, che è la caramella rara. Va bene. La useremo più avanti. E poi, usciamo e rientriamo dalla Via Vittoria per andare a prendere l'altro strumento. Però aspettate, spero che non debba rifare anche poi tutto il... Eh, devo rifarmi anche questo, mi sa. Eh, già, già, già. Devo rifarmi anche questo. Quindi, Pokémon. Blastoise. Ecco io qui. Vai. Mi c'è la tua forza. Eh, sì, perché è troppo complicato mantenere quel sasso in posizione, dato che deve essere mandato per forza là sempre e comunque, no? Allora. Tanto qui rischiavo pure di uscire di nuovo dalla Via Vittoria. Bastava premere un po' più forte il tasso e lui sarebbe schizzato fuori. Allora. Andiamo a rimettere questo sasso qui. Mi piace questo rumore, eh? Molto bello, vero? Molto rilassante il rumore della forza. Ovviamente sono ironico se non l'aveste capito. Il rumore è abbastanza brutto. Ok. Tutto questo l'abbiamo fatto per andare a prendere anche l'altro strumento che si trova là. Quindi andiamo a prenderlo. Finito l'effetto del repellente. Ne metteremo un altro, non c'è problema. Vai, repellente max. Usa. Spero di averne abbastanza per completare la Lega Pokémon. Cioè, la Via Vittoria, volevo dire. E tra l'altro so che nella Via Vittoria è presente pure Moltres. MT-43. Quindi non c'è presente il dragartiglio, ma l'MT-43 che esattamente è... Aeroattacco. Allora. Non ricordo esattamente cosa faccia Aeroattacco. Se è un attacco che richiede due turni, se è un attacco che fa danno da contrapolpo. Non ricordo di preciso. Qui non c'è nessuno strumento invisibile, peccato. Ci ho provato. E qui abbiamo un altro fanta allenatore. Mi sembra bravo. Dimostramelo. A parte che io non sono tenuto a dimostrare niente a nessuno. Primo. Secondo. Combattiamo. Ivisaur. Ok. Non ho mandato in campo la scelta migliore con Jolteon. Cambiamo Pokémon. Contro Ivisaur mandiamo Pidgeot. Un volo dovrebbe essere più che sufficiente. Lui ora userà fuori di rama. Non mi farà nulla. Animazione lunghissima. Non si sa bene per quale motivo. Brutto colpo tra l'altro. Grazie per il brutto colpo non richiesto. E ora ti girò un bel volo addosso. Questo fa male, eh. E infatti lo tira giù. Senza bisogno di nessun brutto colpo. Poi, chi usi War Tortle? Sì, cambia un po' come ne rimandiamo le nostre Jolteon a questo punto. War Tortle è proprio l'ideale. Non ha statistiche speciali particolarmente elevate. E forse potremmo shottarlo addirittura contro uno Shock. Proviamo. Vediamo, eh. No, di pochissimo. Vediamo cosa usa lui. Beh, l'abbiamo paralizzato, qui si è stati infortunati. Ah, lui usa attacco X. Perfetto. C'è proprio come buttare via un turno. Grande, fanta allenatore. Tu sei che sei un grandissimo allenatore degno della tua vittoria. Allora, poi chi usi Charminion? Lasciamo Jolteon. E andiamo di fulmine. Vai. Questo dovrebbe fargli abbastanza male di togliergli almeno metà vita. Non so se lo shottiamo. Brutto colpo. Non lo sappiamo mai se l'avessimo shottato pure no. Se l'avessimo shottato pure no. Mannaggia con i condizionali. Allora. Charizard, lasciamo Jolteon perché Charizard acquisisce anche il tipo volante. Questo almeno è il rosso foco, spero anche in Pokémon di prima generazione. E questo dovrebbe essere quindi super efficace. Dovrebbe shottarlo. Tra l'altro è bruttino lo sprite di Charizard, posso dirlo? Molto più figo lo sprite da dirlo nel Pokémon rosso foco e verde foglia. Ok, Jolteon non sale di livello, peccato. Ho avuto la mia possibilità. Esattamente. Ed ora avvio. Proseguiamo. Allora. Vediamo un po' cosa c'è da fare qui, eh. Bisogna mettere questo sasso lì. Ah, devo fare ogni volta forza, giustamente, sì. Quindi mandiamo Blastoise. Sforza. Vai. Poi. Questo sasso lo dobbiamo mandare da qui. Bisogna stare attento a non incastrarsi con i sassi, altrimenti dovete uscire e rientrare per resettarli e rimetterli nella giusta posizione. Tipo quel sasso lì non so se debba essere mandato in alto, però no. Tu sei? La via vittoria è la prova finale per tutti gli allenatori. È vero? E di sopra mi sa che c'è lo spretti di Moltres. È bruttissimo, è lo spretti di un uccello qualsiasi. Però vabbè, dovrebbe essere Moltres. Ok, tu sei un cintura nera, avrei dovuto mandare quindi Pidgeot immediatamente. Però un fulmine tu dovresti sentirlo abbastanza perché non è statistiche speciali, vero? Devrebbe farti male, infatti. Addio Machop. Poi usa pure Machop, sì, io cambio, e mando Pidgeot. Che se ancora arrivai a 46 Pidgeot devi darti una svegliata, perché qua sta rimanendo indietro. Movimento sismico fallisce, e addio Machop. Poi ti mandi, immagino un altro Machop. Machop, esattamente, facciamo Pidgeot. Andiamo di volo. Tac. Energia concentrata. Tra l'altro non l'hanno introdotta, c'è rimasta Energy. Bene, voluto colpo, e addio Machop. Questo time fa salire di livello, vero? Esattamente. Bravo Pidgeot. Allora, la velocità salita è di un bel po'. L'attacco è leggermente superiore all'attacco speciale, ma niente di che alla fine. E per il resto è un po' come un molto equilibrato Pidgeot. Aiaiaiaiaiaiaiaia. Sì, questo qua dovrebbe essere Moltres, ragazzi, questo che vedete qui sopra. Esattamente Moltres, proprio lui. Allora, qui troviamo un piatto su cui mettere il nostro sasso. E questo è un MT che possiamo magari buttare via. Vediamo. Mega Calcio, sì. Non ci interessa. Via, butta. Quali strumenti, ragazzi, bisogna essere spietati, vanno buttati. So che per i giocatori che non vogliono mai buttare niente è una brutta cosa, però... Gli MT che non servono buttatele via, perché rompono. Ah, ma puoi sfidare i super 4? Assolutamente sì. Sono qui per questo, mio caro Fanta allenatore. Anzi, tu sei un giocoliere, volevo dire. Un bel giocoliere. Che va nel campo Droski. Ecco, questo con un fulmine non lo shotta nemmeno se prego, probabilmente. Perché lui ha buone statistiche speciali, eh. E infatti non l'ho shottato. Un bot in testa non dovrebbe farmi troppo male. Esattamente. E quindi andiamo di turn shock. Ah sì, tecnicamente è una mossa di tipo lotta con Joltan, ma non vuol dire niente. La mossa di tipo lotta con Joltan non ha attacco particolarmente alto. Missile Spillo. È una mossa coleottero. Fisica. Che non dovrebbe essere male. Il coleottero dovrebbe essere fisico, infatti. in una prima generazione. Missile Spillo. Io gli insegnerò il posto del doppio calcio. È comunque un po' più... più utile. E poi è l'unica mossa coleottero che mi sa che potremmo imparare nella nostra squadra. Hypno. Ora lasciamolo e vediamo cosa fa con Missile Spillo. Voglio proprio vedere il danno. Anche l'animazione in realtà voglio vedere. Perfetto. Abbiamo iniziato molto bene con Missile Spillo. Fallendo miseramente. Ok, l'animazione è bruttina. Ah, dice che è super efficace ogni volta che lo colpisce. Ok, ma una cadabra ora. Andiamo ancora di Missile Spillo. Ma quanta precisione ha esattamente Missile Spillo? Ok, l'intelligenza artificiale qui è un po' rincoglionita, posso dirlo. Brutto colpo. Ah, attenzione, quindi farà ancora brutto colpo. Ah no, non fa più brutto colpo. Niente da fare. Allora, Missile Spillo non è male come mossa. Anche in prima generazione, contro questi Pokémon tipo psico. Ed è tipo l'unica loro debolezza per quello che gliel'ho insegnata. E infatti voglio vedere quanto è efficace effettivamente. Guardate che non è male, eh. Non è per niente male. Se si usa pure ripresa. Il problema è che si basa sulla fortuna di colpire più volte. Però guardate che danno che fa, voglio dire. Controlla la Kazam di rosso. Non sarà per niente male, eh. Un bel Missile Spillo tirato a tradimento da Jolteon. Guardali che danno. Dai, colpisce un'altra volta, sì. Il fatto è che colpisce solo due volte. Allora, psico dovremmo reggerlo abbastanza. Abbiamo difese speciali alte, infatti. Cala la speciale, ma non ha un problema. Perché Jolteon ammazza anche Cadabra. Perfetto. Mi hai sconfitto. Eh sì che ti ho sconfitto, bro. Qui non possiamo passare perché ci serve il sasso. Da portare. Vediamo dov'è, eh. Qui abbiamo un altro allenatore. Forza, ti darò una bella lezione. Va bene. Va bene. Dammi una bella lezione, caro il mio domatore. Che manda in campo? Persian. Ok, Persian, un fulmine dovrebbe sentirlo molto. Non si resiste, eh. Non si resiste al fulmine. Al fulmine di Pegasus! No, guarda un'altra cosa. Ha resistito. E mi ha tirato un bel giorno paga. Che mi ha fatto un vero brutto colpo. Infame. Andiamo a lì con un shock. E con un PS era resistito quel Persian di merda. Goldhack. Beh, lasciamo ovviamente il nostro Jolton. Sprat è un po' bruttino di Goldhack, posso dirlo? Tutto sproporzionato, monna. Ok. Spugne e addio Goldhack, volevo dire. Da un bel livellino a Jolton? Bravo. Bravo Jolton. 153 di velocità e 130 di attacco speciale. La lezione l'ho avuta io, infatti. Qui cos'hai? Uno strumento da usare subito? Una cura totale? No. Però abbiamo qualcosa da usare. Vediamo un po', eh. Allora, revitalizzante caramella rara? No. Usiamo una super pozione, allora. Su Jolton. Curiamoci un po'. Usiamo le due, anzi. Vai. Ecco fatto. Così ci si è ripresi. Qui sopra? Cosa c'è? Vediamo un po', eh. Un altro allenatore e un altro strumento. È molto dura la via vittoria. Dovresti dirmelo tu, dato che sei a quanto pare qui dentro da tutta la vita. Allora. Gioco al direvole adottare. Vai. Mr. Mime. Ok, proviamo di nuovo con Mr. Spirlo. Vai. Vediamo quanto danno fa Mr. Mime brutto colpo. Comunque avevo letto che... Se una mossa di questo tipo fa brutto colpo la prima volta, continuerà a fare brutto colpo sempre. Con il primo hit, no? Continuerà a fare brutto colpo anche con gli altri hit. Quanto pare sembra così, effettivamente. Bel lavoro. Grazie. È stato facile abbattere quel tipo. Allora. M.T. 17. Andiamo a vedere cos'è. Vediamo un po'. Sottomissione. Non è malaccio sottomissione. È una mossa di tipo lotta. Che potre... Cosa? La canzone è capace di... A prendere una mossa di tipo lotta? Potremmo insegnare l'attacco di fable. Al posto di minimizzato. O flash. No, lui è flash, giusto? Flash glielo lascerei, sinceramente. Però magari potrei... No, beh. Il cliffhable ha già un buon moveset, in realtà. Potremmo insegnarlo a Blastoise. A Blastoise. Potremmo insegnarlo. Una bella sottomissione. Vedremo, eh. Vedremo. Intanto teniamola. E a questo punto possiamo andare semplicemente su... Qua. Qui abbiamo un altro best zone. E un'altra allenatrice. Combattiamo. Gli allenatori vivono per trovare sfidanti sempre più forti. Va bene. Allora. Fantalanatrice. Cosa vuoi mandare? Parasect. Qua si cambia i Pokémon. Qua si cambia i Pokémon e si manda... No. Si manda... Pidgeot. Vai. Tipo Coleottero, se non sbaglio, Parasect. Erba Coleottero dovrebbe essere. Ah, però. È un brutto colpo, eh. È un brutto colpo di Parasect. Non dovrebbe avere una difesa particolarmente alta. Il volo dovrebbe sentirlo. Quindi... Addio, Parasect. Ottimo. Poi, chi mandi? Dugong. Tipo acqua o ghiaccio. Allora... Contro Dugong... Io manderei qualcuno con una mossa tipo Lotta. Sarebbe l'ideale. Ma non ce la diamo perché non l'ho ancora destinata a Blastoise. Quindi... Va, Jolton. È tutto tuo. Vabbè, carino lo spretto di Dugong. Alla fine sembra una foca. Vai, fulmine. Fulmine al buon Dugong. E penso che questo basti a shot up, infatti. Poi... Chi mandi? Censi. Ah, attenzione Censi. Contro Censi io manderei... Alla ca... Anzi, Pidgeot. Perché Censi deve avere una difesa speciale molto alta. Però non una difesa fisica altissima. Usiamo Volo. Doppio Sverla. Asha provata a colpire il nostro Pidgeot. Vediamo quanto danno gli facciamo. E infatti gli abbiamo fatto parecchio danno con Volo. L'abbiamo disintegrato Censi. Stupido Censi che non si vuole far catturare. Oh, sei fortissimo. Grazie. Finito l'effetto del repellente. E ne useremo un altro. Che vuoi che sia. Vai. Repellente Max. Esploriamo questa zona. Ah, è bloccata. Niente. Andiamo da un'altra parte allora prima. Dobbiamo portare il Sasson da qualche parte. Guardalo qui. Bisogna individuare dove. Prima di tutto battiamo questo allenatore. Ci sono voci che narrano di un bambino prodigio. Si chiama Gesù. Immagino. Allora. Fanto allenatore. Vai. Executor. Attenzione. Executor prende 4x dalle mostre di tipo psico. A parte che lo sprite è stranissimo. Posso dirlo? Lo sprite di Executor è stranissimo. Quanto ora non li facciamo con Mr. Spillo 4x? Non male. Non male per niente. Pestone. Va bene. Non dovrebbe farci troppo. Vai di nuovo Mr. Spillo. Brutto colpo. Ok, perfetto. Sei morto, Executor. Addio. Poi chi mandi Cloyster. Lasciamo il nostro fantastico Jolton tutto fare. E andiamo di Fulmine. Cloyster ha una buona difesa ma non ha molta difesa speciale. Quindi addio Cloyster. Ed infine parte di Jolton che sarà al 50. Sempre cosa buona e giusta. Arcanine. Cambiamo Pokémon ovviamente. Mandiamo. Mandiamo Blastoise. Mandiamo Blastoise con Surf. Dovebbe fargli parecchio male. Vai. Mossa Stub. Di Base Power era tipo 90 Surf. Tantissimo. E infatti lo shotta senza nemmeno bisogno di un brutto colpo. Blastoise si prende i suoi meritati punti esperienza. E le voci erano vere. Esattamente. Allora, Revitalizzante Max. Ottimo. Ci stanno proprio preparando per la Lega. Ora questo Sassu, se non sbaglio, devo portarlo di qua. Devo portarlo di qua e metterlo su esattamente lì. Ok, abbiamo MT-47. Vediamo cos'è. Vediamo cos'è subito. Così se ho qualcosa di inutile la voce non via. Esplosione, sì. Inutile. Infatti mi sembrava che l'aveva già trovata. Butta via. Ciao. Addio. Perfetto. Torniamo da questa parte. e portiamo di là il Sassuon. Allora. Il Sassu, però, non dovete mandarlo sopra. Dovete tenerlo sotto. Altrimenti poi non riuscite più a buttarlo giù. Allora. Blastoise. Forza. Vai. Bravo. Vedete. Uno. Due. Basta. Non lo mandate ancora più su. Altrimenti non riuscite più a spingerlo in basso. Ed ora questa lunga traversata di questa parte della vittoria con Sembra che ci sia un Pokémon a spingerlo. In realtà siamo letteralmente noi che a mano stiamo spingendo il Sassu. A proposito di Gesù, questo è salire al Sassu davanti al sepolcro. È lui, lo vedete. Ora qui dovete stare attenti di nuovo perché se vogliamo metterlo di là dobbiamo spingerlo un'altra volta. Non dobbiamo spingerlo giù ora. Lo spingiamo giù così. Poi dentro Dentro un'altra volta. Non possiamo fare altrimenti. Quindi lo spingiamo ancora così. Poi Dentro di nuovo Giù 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 un'altra volta E siamo arrivati. Passaggio sbloccato. E a questo punto possiamo passare di qua. Vedete? Si è liberato il passaggio. Andiamo a vedere cosa c'è di lì. Che immagino ci sia in realtà la La via per uscire. Di qua si va avanti. Mi sa che di là allora si va da Moltres. E Meglio che non ci sia andato perché non voglio farla in questa parte. Ti mostrerò quanto vali. Grazie. Anche se in teoria dovresti dimostrare tu quanto vali a me. Allora Fanta allenatrice Vai Bellsprout Davvero Contro Bellsprout Non sto nemmeno a cambiare Pokémon Nen di Missile Spillo Vabbè Super efficace Bluto colpo Ma ho shottato con un Con un tick di Missile Spillo Whipping Bell Si cambiamo Pokémon E non mandiamo Pidgeot Deve allenarsi raga Deve allenarsi Buon Pidgeot E andiamo di volo Lui ha provato a usare acido Ma non ci ha colpiti E anche noi abbiamo fallito Niente Lui con acido Ora ci colpisce Anche con questo suono Un po' strano Vai Volo E via Pidgeot però non sale di livello Peccato Victreebel Vediamo se lo facciamo a shottare Anche Victreebel Con un bel attacco volo L'importante è che non fallisca Perché poi inizia a usare A volgebotta Victreebel E rompe le valle Volo No Non muore di pochissimo Iperpozione Boh Io questi che usano Iperpozione Preventivamente Non li capisco Però È proprio un errore A livello concettuale Che loro usino Iperpozione In maniera preventiva Diciamo E con brutto colpo Ti sta bene Così impari a usare Iperpozione Pidgeot sale Nel livello 48 Ottimo Ottimo così davvero Sono furiosa Furiosa Allora Mandiamo Usiamo una soprapozione Dove è la mia bella soprapozione Qui Su Pidgeot Che se la merita Ecco fatto Poi Direi di cambiare Jolton davanti E mettere Alakazam Che ora tocca a lui Ad essere allenato Sì Però mettilo per favore Grazie Ecco fatto Andiamo a battere Quest'altro fanta allenatore Solo i prescelti Possono passare Va bene Allora Io sono un prescelti Allora Lui manda Invece King King Ecco Avrei fatto bene A lasciare davanti Jolton Mannaggia Però King Non dovrebbe avere Molte statistiche speciali Tra l'altro Molto bello Lo sprite Mi piace Andiamo di psichico Vediamo se riusciamo a shottarlo Pur non essendo super efficace Da come va giù la vita Mi sa di sì Sì Probabilmente ha due Speciali King Tentacruel Perfetto Ottimo per il nostro Alakazam Che con un psichico Lo shotterà Tranquillamente Tentacruel È la più statistica speciale Di King Però Noi siamo super efficaci Contro di lui Essendo anche di tipo veleno Blastoise Si cambiamo Pokémon E mandiamo Il buon Jolty Eccolo qui Sì Blastoise Grassissimo Gli sprite Delle ultime Stadi evolutivi Degli starter Sono proprio brutti Quello migliore Penso sia Venusaur Ma gli altri Sono proprio brutti Il più brutto È Charizard Assolutamente Il Charizard È proprio brutto Allora Non ci posso credere Va bene Non crederci Che vuoi che ti dica Ah qui non si passa però Aspettate Finito l'effetto La repellente Strumenti E repellente max Mi fa ridere Che siamo arrivati Fino alla quinta generazione Se non sbaglio Prima di chiedersi Ma non sarebbe comodo Per i giocatori Se gli dicessimo Se gli permettessimo In realtà Di usare repellente Appena finito uno Appena finito repellente Di usarne subito un altro Fa ridere Che siamo arrivati La quinta generazione Chiedendosi questa cosa Per poi metterla Effettivamente Quindi scendiamo qui Salve Se puoi passare da qui Puoi anche affrontare Il Super 4 Assolutamente sì Mio caro amico Mio caro amico Pocai fanatico Eccola Che va nel campo C'è Arminion Ecco C'è Arminion Si metterà un bel psico Di Alakazam In faccia Vai E penso venga Shottato Infatti Poi Chi mani Lapras Contro Lapras Contro Lapras Si usa di nuovo Jolti Ovviamente Bello Bello Lapras Anche in prima generazione Lo sprite È fighissimo Fulminiamolo Lapras Non resisterà A questo attacco Anche se Lapras Un Pokémon Dalle statistiche Altissime E poi Lickitung Si cambia un Pokémon E contro Lickitung Mandiamo Le Fable È una bellina Dalle sprette di Lickitung Ci sta Contro Ipletta Se ne seri diranno Due probabilmente Non penso di shottarlo Però spero Ne servono solo due Non di più Infatti due Sono più che sufficienti L'user Gelo Scudo Aumento la sua difesa Però vediamo Se riusciamo a tirarlo Giù comunque Eh infatti no Mannaggia Lui usa ancora Richel Scudo Non capendo Che ormai è morto Quindi Ti sarebbe convenuto Comunque Provare ad attaccare E via Di punti di esperienza Crepevole No Incredibile Incredibile Sì Chiediamo Maltress E una Superguardia Vabbè Da vendere Allora Però Maltress Non ci serve per ora Anzi Dobbiamo usare Forza Per portare Questo sasso Da qualche parte Quindi Pokémon Blastoise Forza Sì Vai Allora Mandiamolo giù Ancora una volta Poi andiamo Andiamo a dare un'occhiata Dov'è che bisogna Metterlo Bisogna metterlo Probabilmente Qui Credo O forse Questo è solamente Per passare Di qua Perché non penso Serva molto Cioè qui Lo possiamo Tranquillamente Mettere lì Con questo No Possiamo tranquillamente Metterlo qui Lui Cioè questo Lo facciamo Tranquillamente Così Poi magari Però ce ne serve Un altro Per passare Di lì Di sasso Però non possiamo Portarlo con noi Non possiamo Minimamente portarlo Con noi Questo Quindi il sasso Che ci serve Da mettere lì Qual è? Dov'è prenderlo Magari da qui dietro? No Anche qui È impossibile È impossibile Passare Con un sasso Attenzione La mia vittoria Mi è sempre messo In Relativa difficoltà Perché Non mi sono mai Imparato in memoria Il pattern Con cui superarla Chiamo di repellente Massimo Vai Quindi ho sempre Cioè come per la villa Bruciata Vi avevo detto Ho sempre rifatto Tutto da zero Praticamente Il problema è che qui Come cacchio faccio Ad arrivare Qui con un sasso? Punto di domanda Devo togliere Questi sassi Qui immagino Però non penso Si possono togliere Loro A te dove posso portarti? Su qui non c'è nulla Quassù davvero Non c'è nulla E qui praticamente Si arriva dove C'è molte Se va bene Però io se ti portassi Da qualche parte Tu Su qui do sasso Non potrei comunque Mandarti di là Perché è impossibile Come vedete Cioè come vedete È impossibile Mandare il sasso Dall'altra parte Io anche se lo mandassi Qua sopra Non potrei più Mandarlo di qui Quindi qui Non si può fare nulla L'unico modo È tornare indietro Dall'altra parte Qui Dove però I sassi Ora non ci sono più Ah che casino La mia vittoria Che casino Qui posso mandarlo Magari da qualche parte Posso usare questo sasso No posso usarlo Solo dal basso Questo sasso E dal basso Lo posso mandare Da una qualche parte Che è inutile mandare Perché Non Abbiamo già fatto tutto Quello che dovevamo fare Prima qui Se noi scendiamo qui Questi li abbiamo già fatti In realtà Siamo appena saliti da qui Molto strano Questa cosa Molto molto strano Adesso sicuramente Ne starete dicendo Ma come fai A non vedere questa cosa Allora Forza Vai Però A me Sembra che L'enigma della mia vittoria L'avessi sempre risolta Abbastanza agilmente O che In prima generazione È diverso Oppure davvero Mi sta sfuggendo Qualcosa di Easy Però A me sembra che Buttando questo sasso Poi là Dove deve stare Si vada avanti Tranquillamente Eppure La Avevo il passaggio Bloccato di nuovo Allora Vai Ancora di uno Mandando questo sasso Qui Dovrei aver fatto Tutto Quello che devo fare In questo piano Perché Di altri dischetti Su cui mandare i sassi Non ci sono Capite Cioè Non è che ci sono Altri punti Su come mandare i sassi In questo piano Quindi Eventuali altri sassi Qui sono abbastanza inutili Gli allenatori Li ho battuti Anche se ovviamente Non è indispensabile Per passare Alla prossima fase E ricordo Che da qui in poi Bisogna andare avanti Che questi due allenatori Tu li passi Però qui Ah aspetta Vabbè Sono stupido Qui si può passare Mannaggia me Ecco Esattamente Non vedevo una cosa Che era banale Da vedere Ora Ho mandato giù L'altro sasso Quindi si può passare Qui sopra E si può tornare giù Dai Alla fine ce l'ho fatta Senza andare a A perdere troppo tempo Ora che ho buttato giù Quel sasso Posso portarlo Devo usare di nuovo Blastoise Pokémon Blastoise Forza Vai Posso portarlo Dove deve stare Sul piattino Di questo piano Per poi poter passare In quella stretta Dai Con calma ragazzi Ci vuole il proprio tempo A Pokémon Blu Rosso Verde Anche in realtà Nella seconda generazione Che si è cambiato Un po' così tanto Però Qui è comunque Già meglio Qui abbiamo già preso Tutto quello che dovevamo Prendere E qui ha aperto Il passaggio Per passare Da questa parte Finito l'effetto La repellente Usiamo il nostro Ultimo repellente L'avrei dovuto Comparne un po' di più Effettivamente E andiamo Anche se ormai Siamo abbastanza vicini Alla fine Della via vittoria Anzi siamo alla fine In realtà Ok Me l'aspettavo Molto più lunga Invece È stata Più corta Di quello che immaginassi Mi son bloccato Un attimo Semplicemente Perché Vedendo lo spread Di verso il terreno Pensavo Quello fosse un muretto Insomma Insormontabile Alto piano blu La massima autorità Pokemon Sede centrale Lega Pokemon E quindi pensavo Che lì sopra Non si potesse passare Invece Si può andare Tranquillamente Si poteva andare Tranquillamente Ok Qua bisogna Ah vero Qua c'è questa sorta Di labirinto Che non ho mai capito Per quale motivo L'avessero messo Cioè rompe solo Le valle E basta Però Facciamoci questo Labirint L'abirintello Qui Lo mostro di qui Tac E fatto E siamo arrivati Signore e signori Alla Lega Pokemon Eccoci qui Diamo una curata Ai nostri Pokemon Ed ora noi Possiamo Tranquillamente Volare qui Ogni volta Che vogliamo Abbiamo quindi Esplorato Tutte Le località Raggiungibili da volo Della regione Salve tu E il scorvietto Alla Lega Pokemon Dovrai affrontare Uno dopo l'altro Il super 4 Se perdi Dovrai iniziare da capo Fai attenzione Va bene Che abbiamo sempre Il centro scambio Il box Per il Uncci Salve Posso comprare Posso essere d'aiuto Sì Vendiamo la super guardia Che non ci serve a niente Ecco qua Vai Poi Qualcos'altro da vendere Effettivamente Le metti Avrei potuto vendere La posso ributtarle Però Anche perché Pagano Pagano anche abbastanza bene Quindi Mannaggia Che ho venduto Tutte le metti Al posto di Che ho buttato Tutte le metti Al posto di venderle Allora Qui possiamo comprare Un po' di roba interessante Dato che Nel prossimo episodio Andremo a catturare I Pokemon leggendari E raga Se si iniziano a spendere I soldi Perché Ultra Ball Questo Lo useremo Andiamo a spendere Un bel po' di soldi 60.000 Per 50 Ultra Ball Poi Repellente Max Sì Assolutamente Sì Prendiamone 10 E per il resto Nulla Per ora Va bene così Quindi Alla lega ovviamente Ci andremo un'altra volta Nel prossimo episodio Qui si va Direttamente Alla lega Pokemon Tra l'altro Sono i distributori Per le bevande Va bene Ma per questo episodio È tutto Io vi ringrazio Per aver seguito Questo video Vi ricordo Di lasciare un bel mi piace Se lo avete gradito Di commentare Ed iscrivervi al canale Per non perdervi I prossimi caricamenti Da Gratio Sphere È tutto Al prossimo video